coronavirus, psicosi o rischi o pandemia? E questo è l'interrogativo dal quale partiremo stasera negli speciali del TG. Buona serata a tutti, ben ritrovati su Dinese TV, una puntata tutta da seguire perché cercheremo di sviscerare al meglio l'argomento, un argomento che sta tenendo banco a livello globale, un'emergenza dichiarata dall'OMS ma sulla quale vogliamo dare dei paletti precisi, delle comunicazioni istituzionali corrette per appunto non spargere il rischio che questo virus possa preoccupare più del dovuto. Ne parleremo assieme a molti ospiti in studio che vado subito a presentare e ringraziare per essere qui con noi. Il Vice Presidente della Regione Riccardo Riccardi, grazie. Sono giorni intensi per lui in comunicazione costante con la Protezione Civile Nazionale per cercare di gestire al meglio questa emergenza. E poi abbiamo Luca Xin Xin che è un membro dell'Associazione dei Cinesi del Friuli Venezia Giulia, giovane ragioniere, ben ritrovato e grazie per essere qui. Buonasera. Come è come al solito Francesco, Francesco Pezzella che ci aiuterà a sviscerare il tutto e poi andiamo a salutare anche in collegamento Skype da Shanghai Jacopo Luci che è il Presidente del Fogolar Furlan di Shanghai. Buona giornata e buona serata. Buongiorno, ciao a tutti. Avremo anche dei contributi importanti tra cui quelli di Matteo Bassetti, noto infettigologo di fama nazionale e internazionale che da Udine si è spostato ora a Genova e con lui andremo anche a spiegare bene i rischi di questa malattia, di questo virus. Francesco, dunque abbiamo cercato un po' di mettere assieme tutti i tasselli di questo puzzle cercando di dare un'informazione il più completa possibile. Sì, intanto è molto importante avere con noi un rappresentante della comunità cinese nella nostra regione perché abbiamo letto tante cose che ci hanno lasciato un po' basiti riguardo alla reazione degli italiani, non tanto qui in Venezia Giulia, ma se si va a leggere sui social quello che è successo in alcuni casi con persone che si sono allontanate da un cinese che starnutiva semplicemente, abbiamo avuto delle reazioni un po' scomposte secondo me da parte di alcuni, per fortuna non tutti. Quindi è importante averli qui con noi per capire anche come stanno vivendo questo momento che li vede un po' sotto i riflettori senza avere una responsabilità ovviamente diretta. Per quanto riguarda invece le istituzioni è chiaro che il fluo di Venezia Giulia si è mosso come tutte le altre regioni e cercheremo di capire poi con l'assessore alla sanità, vicepresidente, quali sono le caratteristiche di questi provvedimenti che sono stati assunti. Poi come dicevi con il professor Bassetti avremo anche un quadro medico-scientifico della situazione per fare il punto. Partiamo, direi Francesco, dal più lontano per dovere di ospitalità. Andiamo a Shanghai da Jacopo Luci per farci raccontare come stanno vivendo la comunità dei friulani e degli italiani in quella città, questa situazione. Jacopo? Adesso all'esterno è tutto chiuso, tutti i locali sono chiusi, ci sono solo alcuni supermarket aperti, il prezzo è rimasto per adesso lo stesso sotto ordine del governo cinese, ci sono alcune caffetterie aperte dove all'entrata provvedono il detergente per le mani e dove misurano la temperatura e dove segnano la temperatura e il nome prima di farti entrare. Ovviamente chiedono di usare sempre la mascherina e basta, ma comunque la città non è deserta, c'è molta gente all'esterno che va a correre, che porta a spasso il cane, ci sono molte macchine che girano e ovviamente tutto chiuso fino al 9 di febbraio in attesa di nuove direttive. Sappiamo che proprio ieri ve l'abbiamo raccontato, è rientrato il primo volo militare organizzato con un ponte aereo dal governo italiano per riportare in patria 56 italiani, tra cui un giovane di Cormons che sono rientrati a pratica di mare. Come mai Jacopo tu ti sei fermato là? Io mi sono fermato soprattutto perché io sono stato in quella città a Wuhan in dicembre insieme alla mia assistente e perché comunque sono qua in contatto con i cinesi tutto il giorno, sono stato anche in Corea e quindi non me la sentivo di poter essere una potenziale persona che porti il virus anche in Italia, quindi visto che non c'erano fino adesso penso dei controlli adeguati, quindi ho deciso di mia spontanea volontà di rimanere in Cina e aspettare dei momenti migliori per poter rientrare ed essere tutti al sicuro perché ovviamente il mio rientro sarebbe stato insieme alla mia famiglia e non avrei voluto portare dei problemi ovviamente ai miei cari. Assessore Vicepresidente Riccardi, state lavorando tantissimo giorno e notte per gestire questa situazione, proprio ieri dicevamo appunto avete lavorato per riportare in Italia questi 56 italiani tra cui il giovane di Cormons, rimane però il 17enne di grado e siete proprio in contatto diretto, quali sono le ultime? Noi ci muoviamo sotto l'emergenza nazionale dichiarata dal governo, quindi questa cosa va inquadrata lì, ci raccordiamo con il commissario straordinario che è il capo del Dipartimento della Protezione Civile e contribuiamo a tutte le misure che vengono in qualche modo negoziate e condivise all'interno del Comitato Operativo d'Emergenza che sostanzialmente si riunisce, è permanente, quindi noi dalla nostra centrale della Protezione Civile di Palmanova siamo collegati anche oggi con il Ministro Speranza, l'altro giorno c'è la Presidente del Consiglio, quindi stiamo mettendo a fuoco e attivando tutte quelle procedure che vengono indicate dall'attività del Comitato Operativo. Quello che però vorrei dire in maniera che sgomberiamo subito il campo è noi sostanzialmente al di là delle misure dell'emergenza, della chiusura dei voli rispetto alla Cina, della stesura dell'ordinanza sulla quale abbiamo avuto una lunga discussione rispetto ai traffici marittimi e terrestri su quali non si voleva un po' capire, rispetto all'emergenza considerata dal punto di vista sanitario, noi stiamo applicando tutte le misure che sono consolidate nel patrimonio dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, perché il Servizio Sanitario Regionale è attrezzato davanti ovviamente a dei rischi che così vengono individuati ad attivare le procedure, quindi il Dipartimento di Prevenzione, qui stiamo parlando delle malattie infettive, quindi tutte le misure, i dispositivi di protezione individuale, i meccanismi dei trasporti, ecco diciamo che c'è, considerando questo Paese è chiaro che l'elemento della novità su quale ci si deve raccordare è il tema del trasporto, quindi il raccordo tra le persone che arrivano da quel Paese, dove l'elemento secondo me più delicato è la differenza della gestione che si fa all'interno dell'area Schengen e dei diversi Paesi europei. Il Governo ha deciso di interrompere qualsiasi volo con la Cina, altri Paesi europei non l'hanno fatto, quindi è evidente che in questi 14 giorni, perché questo è il tempo in cui si può immaginare che ci possano nascere delle criticità, bisogna capire come governare questo e noi stiamo cercando di affrontarlo. Il risultato è che venga stesa anche a stazioni, porti, oltre che agli aeroporti, dove mi sembra che già sia attivo questo controllo sulla temperatura in funzione di quello che lei dice, perché noi nella nostra regione abbiamo sia porti che stazioni che aeroporti e come lei giustamente sottolineava a livello Schengen la cosa sarà gestita in maniera diversa, quindi qualche Paese consente ai voli della Cina di continuare ad operare, dunque qualcuno potrebbe arrivare in regione col treno oppure con l'auto. Speranza ha chiesto, mi pare che ci stiamo lavorando, di fare una seduta di tutti i ministri dell'Areschengen, dell'Unione Europea ovviamente, per cercare di adottare delle procedure che oggi sono diverse. Queste procedure diverse determinano che cosa? Determino che sugli scali aerei, nel momento in cui lo scalo aereo è collegato, noi non abbiamo collegamenti diretti con la Cina, altrimenti sarebbero chiusi, perché il governo ha stabilito questo. Abbiamo però dei collegamenti che potrebbero essere indiretti, cioè dei voli internazionali che sono collegati a degli scali dove anche direttamente o indirettamente ci possono essere dei voli per la Cina. Quindi è evidente che la prima misura del comitato operativo è quella di dotare tutti gli scali dello scanner in maniera che si possa misurare la temperatura. L'altro aspetto è il tema terrestre, perché è evidente, se io atterro in uno scalo che non è molto lontano da qui, vuol dire che io posso raggiungere il confine italiano attraverso il treno, l'autobus, la macchina. Quindi questa è una delle altre misure sulle quali si sta cercando di affrontare le misure misure che peraltro devono inquadrarsi in un contesto che oggi ci fa determinare che la proiezione dei 20.000 potenziali persone colpite da questo virus ha generato purtroppo la morte di 400 persone. Quindi siamo al 2%, che è un livello estremamente basso rispetto alle altre cose. Quindi noi dobbiamo raccontare le verità, dobbiamo essere pacati, dobbiamo cercare di tranquillizzare le persone, perché la situazione è assolutamente sotto controllo. Abbiamo chiamato proprio per questo qui con noi anche Luca Xin Xin, che è un rappresentante dell'Associazione dei Cinesi del Friuli Venezia Giulia, che più o meno ha raggruppato 5.000 persone nella nostra regione. Ecco, come state vivendo questa situazione? Attualmente stiamo vivendo, cioè viviamo come giorni normali, però evitiamo di uscire, evitiamo di uscire, se ne è proprio necessario, anche in Italia. E ovviamente, come si chiama? Ne avete risentito un po' per quanto riguarda gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali da voi gestiti? Allora, sì, abbiamo notato un grande e notevole calo di tutte le attività cinesi, soprattutto nella ristorazione. E sì, poi penso che questo passerà quando... Certo, passati anche i 14 giorni in cui appunto stavamo spiegando, c'è questo periodo di controllo, di monitoraggio. Sì, allora cosa succede? Che adesso i nostri connazionali, quelli che tornano dalla Cina, per propria volontà, si autoisolano per 14 giorni per tranquillizzare tutte le persone, sia quelli cinesi sia italiani. Anche io, sì. Certo. E andiamo proprio a spiegare, come diceva l'assessore, il fattore sicurezza per i cittadini con un inquadramento medico. Abbiamo ascoltato poco fa il direttore del reparto di infettivologia dell'ospedale di Genova, Matteo Bassetti, che è stato per tanti anni qui in Friuli e lui li definisce gufi, coloro i quali stanno fomentando questa pandemia. Abbiamo in collegamento con noi via Skype da Genova il dottor Matteo Bassetti e con lui andiamo a fare il punto della situazione, grazie alla sua competenza e l'esperienza maturata in questi anni, su un tema, quello del coronavirus. Bassetti che l'ha vista nei giorni scorsi fare delle dichiarazioni ben precise, ha detto no ai gufi, stiamo attenti a non esagerare perché l'influenza fa più morti del coronavirus. Sì, esatto. C'è tanta gente che parla, ma dobbiamo guardare i numeri, secondo me, perché questo è l'unico strumento che abbiamo per capire veramente da che parte andiamo. Allora oggi, se sono vere le statistiche dove si parla di 80 mila, qualcuno dice 100 mila casi complessivi, ebbene comunque i morti rimangono 350. Quindi vuol dire che se consideriamo i casi confermati, ovvero i poco più di 20 mila, abbiamo una mortalità intorno al 2%. Se consideriamo il totale, cioè dei casi confermati, che sono evidentemente quelli più gravi, più i casi totali, che sono anche quelli meno gravi, che rimangono a casa loro, la mortalità è intorno allo 0,2-0,3%. Quindi abbiamo una mortalità che è in linea con quella di una epidemia influenzale abbastanza aggressiva. Quindi è chiaro che io non voglio sottovalutare il fenomeno, ma voglio riportarlo nella giusta dimensione, nella giusta collocazione. Non sottovalutare, ma affrontarlo dunque nei numeri, nei dati concreti. Assessore Ricari, tra l'altro proprio nei giorni scorsi avete continuato anche il monitoraggio con i reparti di infettivologia degli ospedali di Udine e Trieste. In regione tutti i casi, poco più di una decina, sono risultati negativi al momento. Sì, si sono presentate delle condizioni che potevano far apparire la presenza di questa, cioè i sintomi erano questi. Le strutture hanno attivato le procedure, sono stati fatti i test, tutti quanti hanno dato degli esiti, fortunatamente degli esiti negativi. Quindi, come ripeto, condivido molto quello che ha detto il professor Bassetti. Non dobbiamo sottovalutare, dobbiamo lavorare in maniera diligente, precisa, ma nello stesso tempo non dobbiamo neanche creare allarmismi che non ci aiutano ad affrontare un problema che ad oggi stiamo contenendo. Poi quello che succederà nel futuro nessuno è in grado di prevederlo. Però l'unica cosa che io voglio dire ai cittadini è che il sistema è pienamente organizzato nella sua forza nell'affrontare qualsiasi difficoltà si verificasse. Jacopo Luci, torniamo da te a Shanghai. Quanto è stata spiegata nei dettagli questa situazione nelle scorse settimane da parte dell'autorità cinese? Siete stati informati? Come hai vissuto questa gestione di emergenza? Sì, siamo stati informati su tutto e per fortuna che diciamo c'è questo clima politico diciamo in Cina in cui c'è la possibilità di fermare una nazione intera perché è questo che loro hanno fatto ed è molto importante capirlo. Loro hanno fermato davvero la Cina, hanno fermato i voli, hanno fermato le città, i trasporti adesso tra una città e l'altra sono molto difficili quindi diciamo che il governo ha messo in campo tutto quello che è nei loro mezzi perché davvero loro hanno fermato il più possibile il trasporto di persone da una città all'altra in modo di evitare spostamenti anche a Hong Kong adesso e quindi hanno veramente fatto il possibile. E abbiamo visto anche le immagini incredibili della realizzazione di questo maxi ospedale nella città di Wuhan in pochissimi giorni, una situazione Luca che tra l'altro era già stata affrontata per la SARS. Di SARS mi ricordo assai poco perché ero qua, ero piccolo quindi non saprei, so dall'informazione dai amici o dai parenti della Cina, hanno detto che i medici stanno combattendo contro questo virus e stanno facendo di tutto per firmarlo e dalla bella notizia che ci hanno aggiunto è che tra poco produceranno il vaccino e speriamo che sia sotto controllo. In più il governo cinese come aveva affermato il signor Jacopo che ha chiesto a tutto il popolo di stare a casa e di uscire solo se quando è necessario, almeno per questi 14 giorni decisivi. Eh sì, davvero un comportamento incomiabile quello portato avanti dalla nazione cinese, ricordiamo siete un miliardo e quattro in Cina, quindi è fermare un miliardo e quattro di persone. A casa, soprattutto. Torniamo a Francesco anche ad ascoltare un altro passaggio del dottor Bassetti sul fattore proprio psicosi. Sì, poi chiederemo anche a Luca, facciamo dopo aver ascoltato Bassetti, se si sono sentiti in qualche modo discriminati in questa situazione. Però lo facciamo dopo, ascoltiamo un altro professor Bassetti. Questa, che io chiamo anche psicosi, di munirsi di mascherina, di allontanarsi da un cinese che ha starnutito, quali sono le misure che bisogna prendere di igiene personale per scongiurare il contagio? Siamo di fronte ad una psicosi anche secondo lei oppure no? Secondo me siamo di fronte a una psicosi. Quando il lunedì mattina io sento, vado al bar e sento parlare più di coronavirus che di calcio, vuol dire che abbiamo in qualche modo raggiunto l'obiettivo della psicosi collettiva. Per quanto riguarda l'uso delle mascherine, ad oggi non c'è una indicazione all'utilizzo nel nostro Paese, perché la situazione epidemiologica, come dicevo prima, è una situazione epidemiologica decisamente tranquilla. Abbiamo avuto in tutto ad oggi due casi, peraltro che si riferiscono non mai più di una settimana, dieci giorni fa, relativamente al contagio. Diverso il contesto se si usa la mascherina nella città di Wang, nella provincia di Hubei, dove la situazione epidemiologica è decisamente diversa. E poi stiamo molto attenti alle mascherine, perché non è che tutte funzionano allo stesso modo. La mascherina chirurgica non serve a niente, perché non filtra abbastanza, per cui bisogna utilizzare, se ce ne fosse bisogno, se ci fosse un'indicazione, quelle appropriate. Le misure di igiene più intelligenti oggi sono quelle del lavaggio delle mani, sia per quanto riguarda gli adulti che per quanto riguarda i bambini, quindi accurato il lavaggio delle mani e profilarsi delle malattie infettive attraverso le vaccinazioni. Oggi in un contesto epidemiologico come questo, credo che trovi ancora indicazione alla vaccinazione antiinfluenzale, per chi non l'avesse fatta, perché evidentemente aiutano i medici anche a discriminare. Ora, nel nostro paese il problema è molto remoto, ma è chiaro che avere la vaccinazione vuol dire che se tu hai uno stato simile influenzale e ti sei vaccinato, già io potrei escludere che tu possa avere l'influenza. Allora, siamo di fronte ad una psicosi, ce lo dice anche il medico, ma anche l'assessore ha detto che dobbiamo evitare che diventi una psicosi questa. Voi vi siete sentiti un po' discriminati? Avete avuto qualche sensazione spiacevoli in questo caso del genere? Sì, ci sentiamo abbastanza che effettivamente adesso cerchiamo di uscire di meno di casa, stare il più possibile a casa e di coprirsi di più, di non prendere neanche raffreddori perché abbiamo paura che vengano considerati il coronavirus. Parlando anche con… L'associazione di uno stato influenzale ad una persona di provenienza cinese può far scattare l'errata, la psicosi, la reazione da parte delle persone. è normale fino a un certo punto. Assessore Riccardi, bisogna sperare in Sanremo che cambi il tema all'ordine del giorno. È il rito al calcio a Sanremo. Bisogna cercare di affrontare le cose con equilibrio, fermezza. Noi sappiamo poco, quasi niente di questo virus, l'unica cosa che ci è data sapere è che la trasmissione avviene con contatti lunghi tra le persone, è chiaro che le persone che possono trasferirti questa cosa significa che l'hanno preso, quindi vuol dire che chiudere il collegamento, questo significa interrompere. È evidente che qualora si presentino sintomi, questi sintomi derivino dal fatto che ci sono e che ci sia stata una presenza o un'interlocuzione con delle persone che arrivano direttamente dalla Cina, questo è una partita. Il resto è altro. Io ricordo, tra l'altro siamo anche nella, fortunatamente adesso il picco sta scendendo, ma voglio dire siamo anche nella fase dell'influenza, del punto più alto dell'influenza. Ma non è che uno ha un'influenza se non ha avuto contatto con delle persone che arrivano a quel paese, né c'è stato. Quindi è chiaro che ci vuole prudenza, ci vuole ordine, ci vuole, ecco, forse ci vorrebbe anche qualcuno che parla un po' di meno perché come sempre magari con queste macchinette ognuno pensa di essere il più esperto di malattie infettive. bene, diciamo, questo è il paese dove spesso chi perde la finale del campionato del mondo il giorno dopo avrebbe fatto la formazione diversa, no? Però lì non ci fanno danni. Siamo fatti così. Quindi bisogna avere rispetto delle cose, bisogna affidarsi dei medici, bisogna affidarsi dei medici, delle strutture sanitarie e bisogna cercare di affrontare le cose non perché si sta in curva a nord o si sta al bar e addirittura adesso dal calcio passiamo al resto come dice il professor Bassetti. Quindi cerchiamo di parlare con cognizione di causa, se uno non ha cognizione di causa è ascolti, si faccia un'opinione ma alla fine non è che possiamo andare, perché nel momento in cui ricorriamo a queste cose alla fine veramente rischia di diventare una psicosi che genera, se volete possiamo parlare anche della vicenda dei bambini, le lettere dei governatori che ha fatto tanta confusione, ma in realtà i governatori non è che dicono noi non vogliamo i bambini cinesi a scuola, dicono semplicemente stiamo attenti che nel caso in cui questi bimbi siano arrivati dalla Cina, quindi perfettamente questo, sta generando... Cinesi o meno, perché poi per esempio Jacopo Luci parlava della famiglia, adesso non so se lui ha dei bambini, ma potrebbero essere anche bambini non cinesi, dico, bambini... Il problema è che siccome siamo andati fin troppo avanti, il problema è renderci conto che tu puoi avere davanti delle persone che alla fine forse per la paura, per la preoccupazione e quindi sono motivi rispettabili, poi qualche imbecille non manca mai, no? Ecco, allora alla fine se quell'imbecille che alla fine magari ha la voce un po' più alta di qualcun altro, genera delle preoccupazioni, insomma un genitore è un genitore, un bambino è un bambino, quindi è chiaro che la preoccupazione diventa automatico, è la cosa più importante che puoi avere, no? La preoccupazione è normale, la reazione alla preoccupazione in certi casi diventa appunto come diceva lei un atto di... Sì, a volte è anche giustificabile perché un genitore è un genitore, quindi ecco... No, ma la preoccupazione... Noi dobbiamo cercare di attraversare questo periodo che sono queste due settimane cercando di arginare quelle che sono le possibili fonti e sperare che questa cosa continui a riproporsi alle condizioni in cui si è proposta nel corso di questi giorni con una struttura dove il paese, devo dire, il paese ha anche reagito con decisioni importanti cioè il nostro paese rispetto ad altri paesi europei, l'emergenza nazionale, la chiusura dei voli, cioè ha assunto delle decisioni importanti che qualcuno, qualcun altro paese ha deciso di non assumere. Aprendo una piccola parentesi, ci siamo un po' riscattati dalla politica estera rispetto alle scorse settimane in cui il governo, il nostro governo era stato accusato di posizioni ambigue, su questo fronte qua è stato compatto, ha marciato e ha dato anche l'esempio. Sì, il ministro degli esteri però mi pare che sia arrivato dopo, cosa farla battuta. Tornate invece alla questione... Però voglio sottolineare, semplicemente per chiudere questo argomento all'interno della trasmissione, che è anche da apprezzare la disponibilità della comunità cinese e l'atto di responsabilità, perché come ci ha detto Luca molti si sono auto isolati e quindi c'è anche da parte della comunità cinese una collaborazione importante, perché senza di questo si correrebbero più rischi, inevitabilmente. E proprio su questo un passaggio rapido anche con Jacopo Lucci da Shanghai, tra l'altro questa emergenza è arrivata in un anno particolare di scambi di relazioni tra Italia e Cina. Eh sì, esatto. Perché adesso se la Cina si ferma, si ferma anche per tanti altri stati e nazioni, perché molte nazioni come noi importiamo, esportiamo, quindi deve essere un obiettivo comune riuscire a fermare questo virus e anche questa paura, perché se la Cina si ferma, quanti di noi abbiamo oggetti a casa provenienti dalla Cina e quindi è tutto un giro, quindi queste paure, anche queste tensioni non servono a nulla e non va bene così, insomma. Dobbiamo cercare di calmare, come appunto diceva il professore, di tranquillizzarci e vedere che gli esperti finiscano questo virus, terminano questo virus senza dare, entrare come nell'ottica del calcio appunto per qualsiasi cosa. Dobbiamo calmarci e vedere come procedere tranquillamente. Piccolo break, poi di nuovo assieme c'è tanto altro ancora da raccontarvi su questo coronavirus a tra poco. Siamo trovati seconda parte con gli speciali del TG di Udinese TV, stiamo sviscerando la questione coronavirus, siamo i nostri ospiti in studio, il vice governatore Riccardo Riccardi, Luca Xin Xin della comunità cinese del Friuli Venezia Giulia, in collegamento da Shanghai Jacopo Luci del Fogolar Furlan di Shanghai. Abbiamo parlato della necessità di ascoltare soprattutto gli esperti e la nostra regione può vantare un luminare, un ricercatore che è ai vertici dell'Istituto Nazionale di Sanità, il professor Brusaferro, allora ascoltiamo anche il suo quadro sul coronavirus. I due casi di pazienti confermati in Italia come portatori di coronavirus sono degli eventi che in qualche modo sono attesi, analogamente a quanto sta succedendo in altri paesi europei, così come non possiamo escludere che nei prossimi giorni, nei prossimi settimane, possano verificarsi casi cosiddetti secondari, ovvero persone che sono entrate in contatto con coloro che sono portatori del coronavirus. Ogni giorno vengono segnalati dal Servizio Sanitario Nazionale dei casi sospetti. Questo è un elemento che rende anche ragione di quanto il nostro Servizio Sanitario Nazionale è pronto ad affrontare il problema. Sappiamo che per ogni caso sospetto si avviano delle procedure di accertamento diagnostico che in poche ore mirano a verificare se l'infezione che viene sospettata è sostenuta da coronavirus o meno. Le raccomandazioni per la popolazione rimangono sempre le stesse, ovvero sia quello di lavarsi le mani frequentemente, lavarsene a meno per 20 secondi, coprire le vie aeree quando si stannutisce o si tossisce e se si copre con dei fazzolettini di carta questi poi vanno gettati, evitare di entrare in stretto contatto con persone che abbiano sindrome influenzali e soprattutto anche controllare molto bene l'igiene dei luoghi dove viviamo, delle superfici dove viviamo. L'uso delle mascherine in una persona sana non ha particolare utilità, viceversa è estremamente utile laddove una persona sia portatrice di un'infezione delle alte vie respiratorie perché usandole evita di contagiare chi sta attorno. Ascoltato dunque Francesco dei consigli e anche della comunanza di visione con quanto ci aveva spiegato anche Bassette all'inizio puntata. Sì, troviamo quindi due pareri concordi che rafforzano quello che abbiamo detto. Voglio chiedere all'assessore se siano dei dati magari di maggiori accessi ai pronto soccorsi in questi giorni semplicemente per misurare la temperatura per chi se la... I dati peraltro dei pronto soccorsi sono sempre elevati quindi... Difficile anche se non ha... Certo, 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 respiriamo una certa preoccupazione, ci sono delle domande che arrivano, c'è della gente che si presenta questo è un fenomeno che c'è. Che c'è. Torniamo sulla questione per quanto riguarda la richiesta partita ieri da alcuni governatori delle regioni del Nord Italia proprio per la gestione degli studenti rientranti dalla Cina. Abbiamo proprio chiesto il punto al dottor Bassetti. Direttore Bassetti, proprio ieri è arrivata la richiesta da parte di tre governatori della Lega di non accettare gli studenti cinesi rientri in rientro proprio dalla Cina. Lei come giudica questa richiesta alla luce anche del fatto che comunque sarebbero già previsti dei protocolli di isolamento per chi rientra da quel paese? Io credo che bisogna evitare di fare del razzismo o evitare in qualche modo di strumentalizzare politicamente una situazione che è grave e che non ha bisogno di essere strumentalizzata. Io credo che nel contesto attuale di tipo epidemiologico anche le misure di quarantena che sono state messe in pratica dal governo con le persone che oggi sono negli ospedali militari mi paiono francamente eccessivi. E quindi ancora di più lo sarebbero discriminare degli studenti evidentemente che siano essi cinesi più italiani, cioè che avessero risieduto nelle aree, a meno che non ci siano delle situazioni epidemiologiche che lo suggeriscano. È chiaro che se c'è un studente che è stato certamente vicino a un caso o è stato in un ospedale dove ci sono stati dei casi, questo è un discorso diverso e evidentemente dovrà essere eventualmente messo in quarantena. Ma un discorso generalizzato anche perché non dimentichiamoci che Cina vuol dire un settimo del mondo, cioè noi oggi abbiamo un miliardo e cento milioni di abitanti in Cina, non ne abbiamo 60 milioni. Quando diciamo Cina, non diciamo Italia, non diciamo Francia, non diciamo Spagna, diciamo un continente in pratica, un miliardo e cento milioni di abitanti. attenzione, perché se facciamo discriminazione per un miliardo e cento milioni di persone vuol dire che discriminiamo un settimo della popolazione mondiale. Queste le parole dunque di Bassetti, vice governatore Riccari, come ci spiegava prima è stata un po' gonfiata la richiesta, secondo voi, quella dei governatori. Guardi, io mi limito a citare i fatti. Il governo, non i governatori della Lega, non che li debba difendere io, non ho bisogno che la difenda io. Il governo ha stabilito che in questo paese c'è un'emergenza nazionale e ha deciso che bisogna interrompere i voli con la Cina. I governatori cosa scrivono? Scrivono, caro ministero dell'istruzione, i bambini che dovessero arrivare dalla Cina è meglio che non li mandi a scuola, punto. Cioè, poi è chiaro che attorno a questa vicenda è nata. Certo, però i dati dicono questo. La richiesta della Lega, dei governatori della Lega, si inseriscono in questo contesto. Cioè, se tu mi interrompi, io ve lo farei leggere la circolare del Ministero della Salute, cioè non prendere il giocato, non metterlo in bocca. Io capisco che poi ci siano degli standard, per l'amor di Dio. Allora, questo è il tema. E su questo tema poi si inserisce l'altro elemento sul quale noi abbiamo fatto una battaglia dura, perché alla fine abbiamo cominciato da soli e alla fine le hanno riconosciute. Dove tu nel momento in cui decidi, e questo l'ha deciso il governo, e al governo i governatori di Lega non sono mica, no? Quando tu dici, qui non arrivi più perché decidiamo di fare questo. Responsabilmente in Cina abbiamo ascoltato quello che sta accadendo. Allora, quando però tu dici, devo chiudere questo traffico, questo traffico lo devo chiudere, ma il traffico riguarda tutto, non riguarda solo l'aereo. Perché se io, come dicevo prima, ho degli scali intermedi e poi attraverso questi scali raggiungo i confini, che ricordo, il nostro confine è quello più fragile di quelli che abbiamo, perché si affaccia all'area a destra, dove ci sono tutta una serie di flussi che è chiaro. Quindi anche nello scalo indiretto, se tu hai uno scalo che non misura le stesse condizioni, quindi non ostruisce come ha fatto l'Italia e non interrompe il volo con la Cina, devi porti il problema se lavoriamo dentro un'emergenza nazionale che ha dichiarato il governo. Quindi, coloro che passano, che hanno dei sintomi e che sono soprattutto arrivati da quel paese in via diretta o indiretta e viaggino col traffico marittimo e soprattutto col traffico terrestre, quelli devi verificare, perché tu non puoi dire che questo fenomeno vale per qualcuno e non vale per gli altri. Quindi a questo punto, come ha detto anche David nella domanda posta a Bassetti, è un atto superfluo quello di chiedere di non ammettere a scuola i bambini che arrivano da lì, perché c'è già il protocollo che prevede questo. Quindi qui è nata poi la strumentalizzazione. Circolare sostanzialmente non prevede questo, no? Però prevede la quarantena per chi? Cioè, l'altro giorno c'è stata anche questa difficoltà di trovare questo bambino che arrivava dalla Cina e c'era il problema. Ci sono stati due o tre probabilmente nel Ministero dell'Istituzione dove alla fine si è partita una parte, poi naturalmente questo che cos'è? È la vita dell'emergenza, dove tu devi cercare di correggere le cose. Però è chiaro, poi si mette in mezzo un po' la strumentalizzazione, ci sta, la politica ogni tanto, però che uno dica se arrivo a un bambino alla Cina e tieno 14 giorni a casa, lo dice il governo. Quindi, se vogliamo girare attorno a questa cosa per dire, facciamolo, io rispetto, però non mi pare di aver letto cose diverse da quelle che sono già stabilite, sono soltanto state esplicitate. Potremmo aggiungere una cosa? Prego, prego. Chiedo al Vice Presidente magari se è possibile per tranquillizzare le persone, se è possibile non so come regione o come comune, si potrebbe offrire un edificio per le persone magari che non hanno possibilità di isolarsi singolarmente a casa o non so in qualche posto, se magari solo ovviamente le persone che sono proprio in volontà, se vogliono isolarsi magari si potrebbe offrire qualche edificio o qualche posto per tranquillizzare. Magari non succede niente dei luoghi dei luoghi nei quali poi il crimine ci ammettiamo. Sì, no, è brutto, ma siccome le persone hanno proprio volontà, vuole sicurare le persone. Perché poi cosa parliamo? Parliamo alla fine di chi ha avuto un contatto pur arrivato alla Cina. Questo è il nodo. Cioè noi dobbiamo partire da qua, perché se non partiamo da qua rischiamo solo di fare un grande minestrone. Anche perché mi pare che sia stato scondurato il contagio attraverso il cibo, cioè si arriva del cibo anche dalla Cina, mi pare che non sia possibile. Qui dobbiamo sempre essere un po' prudenti perché di questa cosa non si conosce niente. Certo, la prevalenza ci dice, nelle dichiarazioni di tutti gli esperti, che le merci non dovrebbero essere veicolo di trasmissione. A proposito anche, Luca, di come state vivendo, ci spiegai in apertura che c'è anche questo discorso di calo degli affari per quanto riguarda anche e soprattutto la ristorazione. Avete pensato a qualche iniziativa particolare per, diciamo, frenare questo calo di presenza? Io penso che… O vi mettete il cuore in pace e aspettate questi 14 giorni? Infatti adesso dovrei parlare un attimo con i connazionali per trovare una soluzione e penso che sia abbastanza difficile perché, come diceva prima, il vicepresidente, abbiamo tanta comunicazione, cioè abbiamo telefonia, abbiamo revisione che ci bombarda di queste notizie. Magari certi sono giusti, certi sono errati, ma… C'è un'intervista molto interessante al professor Giacca questa mattina, il quale fa un paragone rispetto a quello che è successo con la SARS, dove i dati poi di mortalità sono completamente diversi. e dice, ma scusi, la differenza di questa cosa qual è stata? Ci sono i social. Questa è stata la risposta del professor Giacca che non è uno, l'ultimo che passa per strada, no? Sì, sì, sì. Beh, infatti una premessa che abbiamo fatto all'inizio della trasmissione è che ci sono stati dei comportamenti un po' bizzarri dovuti anche alla proliferazione dei social, sui quali purtroppo si esprimono tutti. Quello che è importante è partire dal presupposto che c'è l'emergenza nazionale, che il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale, quindi dentro lì noi dobbiamo muoverci. Perché la preoccupazione è corretta, è naturale, la reazione alla preoccupazione poi diventa… La decisione di un governo di questo tipo non è che possiamo perdere il tempo a discuterla, è stato opportuno, è stato opportuno, ha fatto bene, ha fatto male, è così e da lì bisogna partire e quindi tutti i provvedimenti devono essere coerenti con quella decisione lì che è in capo al governo. Il governo l'ha assunta e di conseguenza dobbiamo cercare di affrontare tutte le cose coerentemente a questo e questo stiamo facendo. E abbiamo per fortuna una comunità che accetta anche questi provvedimenti e anzi si autano. Tornando anche dal nostro Jacopo Luce a Shanghai, avete sentore di altri corregionali che sarebbero pronti a rientrare o più o meno tutti si associano a quello che ci hai raccontato tu che per non dare preoccupazioni ai tuoi parenti e ai tuoi cari, ti fermi ancora lì per un po'. Ma dipende da persona a persona, ci sono molti che adesso aspettiamo il 9, il 10, dovremmo rientrare se rimanesse tutto così a lavorare, quindi molti aspettano con ansia la settimana prossima e se in quel caso lì altre persone che sono cinesi dicono staremo ancora tutto il mese a casa. Se è così penso che molti troveranno delle soluzioni per rientrare perché molti comunque hanno lavori in altre nazioni dell'Asia come Hong Kong, Singapore, quindi tutto è da vedere perché qua da un giorno all'altro veramente può cambiare perché come hanno deciso dal 31, al 2, di spostare addirittura fino al 9, tutto è tutto in movimento, quindi adesso aspettiamo e vediamo che cosa il governo decide. I morti continuano comunque a salire, gli infetti continuano a salire e adesso vediamo. Anche per darci una dimensione della presenza dei co-regionali nella città di Shanghai e nelle altre zone perché c'è anche un altro fogolare a Pechino se non ricordo male e anche un rapporto rispetto a chi è in Cina per lavoro, delle grandi aziende della nostra regione, dei gruppi Danieli in poi che sono lì e che magari sono stati fatti rientrare anzitempo. Sì, noi qua a Shanghai siamo più di una centinaia di persone, dopo c'è il fogolare a Pechino però non è più attivo come una volta e so che la Daniele ha deciso di fermare almeno fino al 9 la produzione, di portare indietro tutto il personale italiano, comunque in molti erano già rientrati per il capodanno cinese, questo c'è da dire, quindi adesso ci saranno molti che aspettano di rientrare, quindi c'è il caso opposto, molti sono già rientrati e molti aspettano di rientrare, adesso vediamo come si evolverà la situazione. Vice governatore Riccardi ci spiegava anche in apertura, si sta continuando a lavorare per provare a organizzare anche un altro puntero dopo quello di ieri, siete in contatto diretto sempre con la protezione civile nazionale. Io mi sono occupato stamattina di capire il ragazzo di grado, tra l'altro abbiamo parlato col sindaco, ci siamo scritti con i genitori e quindi adesso bisogna cercare di capire come riusciamo a portare la casa prima possibile, perché pare che stia, no non pare, sta bene, ma mi risulta che anche gli esiti degli esami abbiano dato un valore negativo, per cui adesso è chiaro, forse riuscire a organizzare un volo per una persona sola è un po' complicato, però con Borrelli proprio prima di entrare in trasmissione ci siamo sentiti e ci sentiamo dalle 6 di stamattina, la verità, e quindi cerchiamo di, anche perché poi alla fine subentrano tutta una serie di altre cose, la preoccupazione dei genitori, lo vedi via Skype però è comunque averlo lì, sono tutte cose che sono delle conseguenze normali, ecco, quindi noi dobbiamo cercare di affrontare, di andare incontro alle persone davanti ai problemi di preoccupazione che è inevitabile vengano fuori. Fate un biglietto aereo da una di quelle nazioni, per cui, una di quelle nazioni che non hanno chiuso gli aeroporti. Tornando invece al fattore coronavirus, dicevamo sappiamo ancora poco, ma proviamo a capire che cosa sappiamo sempre con il dottor Bassetti. Una domanda anche dal punto di vista medico-scientifico, intanto si è detto all'inizio di questa epidemia che si tratta di un coronavirus, che cosa significa coronavirus e perché c'è il timore che questo virus sia più pericoloso di altri, qual è la caratteristica che lo rende più pericoloso e poi se è plausibile il fatto che sia stato creato in laboratorio, come si è detto e si è ipotizzato. Il coronavirus, lo avrete visto, immagino in tante fotografie, ha indubbiamente l'aspetto che sembra quello di una corona, per cui da qui il nome del coronavirus, ma il coronavirus non è assolutamente nuovo. Prova è che nelle stagioni influenzali o comunque nella stagione invernale, il coronavirus è uno dei tanti virus parainfluenzali che noi troviamo abitualmente nell'albero respiratorio dei nostri pazienti. Ne troviamo di varietà diverse rispetto a questo nuovo coronavirus. Quindi questo è un virus che probabilmente, io dico probabilmente perché probabilmente ne sapremo di più anche nelle prossime settimane o mesi, è arrivato all'uomo da un animale, quale animale esso sia non è ancora certo saperlo, qualcuno parla del serpente, qualcuno parla del visone, qualcun altro parla dei pipistrelli. Evidentemente ha fatto il salto di specie e nell'uomo è arrivato. Quindi è un coronavirus che è mutato, quindi non è più lo stesso coronavirus, è un coronavirus diverso. E qui ci sono le preoccupazioni, perché evidentemente un nuovo coronavirus che salta di specie e che dà così tanti casi in uno spazio limitato di tempo, è evidente che questo può rappresentare un problema dal punto di vista della salute del mondo, perché potrebbe rappresentare il potenziale futuro patogeno della pandemia. Ad oggi non siamo ancora di fronte a una pandemia, perché come dire i casi sono per il 99% limitati alla provincia di Hubei e alla città di Wuhan, bisogna alzare in qualche modo il sistema di difesa, nel senso di mettere in pratica dei protocolli di igiene quello che è stato fatto da parte del Ministero della Salute e quello che è stato fatto da parte delle regioni, che è quello in qualche modo di scrinare chi proviene da questi paesi, ma senza fare del terrorismo, senza fare dell'allarmismo, senza fare del razzismo, perché questa è una malattia effettiva che peraltro ha un tasso di mortalità vicino all'influenza, per cui io mi chiedo, ma perché nel 2009 quando ci furono nel mondo milioni di casi di H1N1 a partenza fondamentalmente da altri paesi non si fece la stessa cosa? Nessuno ne parlò. Non si seppe neanche. Considerate che per l'H1N1 2009 ci furono nel mondo oltre 200.000 morti, eppure allora nessuno ne parlò. Allora, io credo che bisogna cercare di avere un atteggiamento composto, maturo e affrontare problemi infettivologici in maniera intelligente tutti quelli che si presentano, perché se poi arriviamo a degli eccessi e arriviamo a che di un problema così importante, ne parlano tutti, perché oggi sono tutti infettivologi, sono tutti microbiologi, sono tutti virologi, allora questo non fa un buon servizio al cittadino. Io quando arrivo all'aeroporto di Roma, come mi è capitato l'altro giorno, rientro da una riunione e vedo intorno a me tutti vestire la mascherina da quelli che controllavano i bagagli a quelli che si imbarcavano sui voli, per il contesto epidemiologico italiano va bene se vogliamo festeggiare il carnevale in anticipo, ma non va assolutamente bene dal punto di vista della diffusione della psicosi, che evidentemente con questi atteggiamenti viene ulteriormente alimentato. Ecco Luca, ci spiegavi prima che dalle notizie che avete dai vostri parenti in Cina si sta aggiungendo a determinare proprio il vaccino, manca poco da quanto vi hanno detto. Sì, dalle informazioni che abbiamo avuto dalla Cina, che i medici adesso stanno cercando di fare vaccino prima possibile, effettivamente anche il governo ci ha chiesto, come dicevo prima, di stare a casa, si stanno a casa per 14 giorni e non uscire non è necessario. in più, sì, in più in Cina, come dicevo prima, è grande in Cina, quindi si considera anche... cioè, per esempio, parliamo della provincia di Hubei, è più grande ancora di Italia. Eh sì, sì, quindi... Tra l'altro è un'area, da quanto si apprende, che è evoluta molto negli ultimi tempi, è diventato un po' il polo tecnologico del paese, giusto? Sì, ovviamente, sì, cioè, possiamo considerare Wuhan come il Shanghai del centro della Cina, perché tutti i trasporti, tutti gli intermedi passano, è diventato ultimamente anche una città molto importante. Volevo aggiungere una cosa prima, cioè, c'è le parole che il virus è nato nel laboratorio Cine, cioè nel laboratorio, ma... Sì, fake news. A me sembra un po' strano, cioè, se uno deve fare, cioè, uno mi sembra un po' strano crearlo in una città di 11 milioni di abitanti, cioè, sì, ci sono parole che nascono, e poi dicono che, c'è anche un'altra voce dove dicono che sono stati americani a produrre questo periodismo, dicono che, sì, mi sembra un po' difficile, cioè, non... Sì, è da ricondurre probabilmente anche al discorso delle tradizioni con il rapporto con gli animali che c'è nel vostro paese e anche delle discrepanze, per esempio, tra le città che aumentano, si evolvono e i paesi di campagna, insomma, una trasmissione potrebbe essere avvenuta in questa fase. Sì, penso che sì, anche quello, perché c'è un po' l'ignoranza delle persone che mi piacciono di stervaggine, come tutte le parti, magari, non lo so, adesso stervaggine sono contagiati, e in qualche modo sono arrivati all'uomo. Certo. E questo, sì, però tutto da definire, non sappiamo anche noi. Assessore Ricari, si parlava di vaccini, sappiamo già, insomma, che il tempo poi per produrlo servirà per la prossima emergenza, e abbiamo un ultimo passaggio, Francesco, proprio su questo dei vaccini con il dottor Bassetti, allora andiamo ad ascoltare anche… Sì, ma un po' ho chiesto a Bassetti di anticipare quelle che saranno sicuramente le domande che arriveranno una volta che il vaccino sarà pronto, tutti quanti a chiedere, ma posso farlo, visto che sono già vaccinato, posso o non posso? Abbiamo chiesto anche questo al professor Bassetti. È stato isolato il virus, peraltro, in Italia. Quanto tempo ci vorrà per produrre il vaccino e se il vaccino potrà essere poi inoculato anche in chi si è già sottoposto alla vaccinazione per l'influenza, quella di cui parliamo ogni anno? Allora, è chiaro che il fatto che il virus sia stato isolato, peraltro è importante ricordare come l'Italia ha fatto un ottimo lavoro, ma è stato fatto un proclama che, ahimè, per il mondo scientifico non è stato così gradito, perché altri paesi avevano già isolato il virus prima di noi. Comunque, al di là di questa precisazione, che spero che prima o poi venga fatta anche degli organi competenti, ma avere il virus in contura vuol dire avere la possibilità di vedere, di guardare se questo virus risponde o no ai farmaci, ed anche quello di averlo, appunto, per poterlo in qualche modo inattivare e evidentemente poi provare a produrre un vaccino. È chiaro che i tempi sono lunghi, consideri che per arrivare a produrre su vasta scala, perché qui stiamo parlando di una vaccinazione non per migliaia di persone, stiamo parlando di una vaccinazione per miliardi di persone, quindi tutto questo evidentemente ha dei tempi che non sono così vicini, ci vorranno mesi, forse anche anni per avere un vaccino disponibile su vasta scala. È chiaro che poi nel momento in cui il vaccino sarà disponibile non c'è nessun problema a che questo venga fatto anche a chi è già stato vaccinato per l'influenza o per molte altre malattie infettive. Non c'è in qualche modo nessun tipo di controindicazioni, però i tempi non credo che siano così vicini. Questo va in controtendenza, no Davide, con quello anche che leggiamo, perché poi l'informazione viaggia veloce, a volte anche troppo veloce, perché ci dici che il vaccino è pronto, tra un po' arriva il vaccino siamo a posto, invece il vaccino, ci dice il professor Bassetti, che per produrlo ci vorranno tempi medio-lunghi. E poi anche il discorso della vaccinazione su larga scala, parliamo di miliardi di persone, tra le tante cose lette sui social, forse sono un po' distratto, ma non ho letto ancora di complotti di virus creato da case farmaceutiche per produrre poi i vaccini. Questa ancora manca, ma probabilmente sono stato distratto io, qualcuno l'avrà sicuramente scritto e ipotizzato. Siamo in conclusione, allora andiamo a salutare il nostro Jacopo Luci da Shanghai. Jacopo ti aspettiamo al tuo rientro, passa a salutarci. Va bene, ciao a tutti, sarà fatto. E speriamo bene. Sì, sì. Senza mascherina, mi raccomando. Aspettiamo adesso ancora cinque giorni e vediamo se la situazione cambia, migliora. Speriamo. Naturalmente continueremo anche a farci aggiornare da te live nel corso dei nostri notiziari. Sei stato un prezioso reporter sul posto in queste giornate. Grazie Jacopo, buonanotte. Grazie a voi, buona giornata. Ringraziamo anche il Vice Presidente Assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Grazie a voi. E il nostro Luca Xin Xin, grazie alla comunità cinese. Possiamo chiudere con un appello? Veniamo a mangiare ai ristoranti cinesi? Sì, siete benvenuti. Grazie a te Francesco e alla prossima. Buona serata. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti.